Buongiorno, oggi parliamo di internazionalizzazione, precisamente di misure del POR Campania dedicati a processi di internazionalizzazione per le micro e piccole e medie imprese da 26 operative nella regione Campania. La misura di cui parleremo oggi è quella dei voucher dedicati alle fiere, ossia di contributi a fondo perduto che copriranno le spese per il 70% del programma di investimento proposto fino ad un massimale di Euro 3.000 per fiere svolte all'interno della comunità europea, quindi Italia comprese, e 5.000 invece per fiere svolte in paesi extra o E. La possibilità per le micro e piccole e medie imprese è quella di poter partecipare fino a 4 eventi fieristici nel periodo che va dal 1 luglio del 2018 al 30 giugno del 2019, con l'attenzione della suddivisione in massimo 2 fiere all'interno della comunità europea e altre 2 all'esterno della comunità europea. Quali sono i costi che vengono coperti da questi contributi? Naturalmente i costi di iscrizione a una manifestazione fieristica, i costi degli spazi espositivi, di servizi di interpretariato e di hostess, oltre naturalmente a materiale pubblicitario. La presentazione delle domande avverrà entro il termine di dopo 30 giorni e la presentazione della modulistica che verrà pubblicata sul BULC durante il mese di aprile. Tali domande sono aperte a tutti i settori delle categorie Ateco, con un particolare occhio ad alcuni che sono stati inviati dalla regione campanica, quali l'aerospazio, la logistica, il tessile, l'avviamento e i beni culturali. Questo vuol dire solamente che le domande presentate da tale tipologia di imprese saranno valutate anticipatamente rispetto alle altre, ma non che avranno un grado di preferenza. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci.